Oltre 200 punti di ripresa del territorio comunale di Pistoia a disposizione della Polizia Municipale attraverso due tipologie di videocamere, le camere fisse e le camere di tipo DOM, ovvero quelle camere, come ci spiega il comandante della Municipale di Pistoia, Sergio Bedessi, capaci di rotare a 360 gradi intorno al proprio asse per vedere l'intera area circostante. Dalla centrale operativa all'interno di una sala del comando di Via Pertini, il personale della Municipale riesce così a monitorare gran parte del territorio urbanizzato. Ecco, il controllo come funziona? Il controllo funziona in questo modo, se non ci sono eventi particolari, l'impianto registra tutto da tutti i punti di ripresa, però solo alcuni punti di ripresa vengono tenuti sott'occhio dalla sala operativa, quelli su zone particolari tipo la piazza del Duomo, la sala e così via. Al momento che accada un evento critico, l'operatore della sala operativa punta una telecamera o più telecamere sul luogo dove l'evento sta accadendo, in questo modo fornendo un quadro utile all'operazione che verrà effettuata di lì a poco. In caso di incidenti stradali, in caso di fughe, grazie all'impianto di videosorveglianza, è possibile vedere da quali strade l'auto è fuggita e riconoscere la targa. In ogni caso può anche servire a fini di esclusione, cioè posto escludere da dove il veicolo si è allontanato dal luogo dell'incidente in questo modo direzionare al meglio le indagini di polizia giudiziaria. Il territorio è abbastanza monitorato, essenzialmente nella parte urbanizzata, questo sia per un motivo storico, perché alcuni punti di ripresa erano già in sito, sia per un problema di mezzo trasmissivo. Sulla parte pianeggiante del Comune di Pistoia abbiamo la fibra ottica ed è anche più facile tramite ponti radio effettuare la comunicazione fra punti di ripresa e server centrale. In dotazione al personale della Polizia Municipale ci sono anche sei bodycam acquistate di recente. Due di esse sono predisposte per essere indossate sulla spalla o sul casco. È una telecamera che si porta addosso, si porta sul corpo. È uno dei due modelli che abbiamo acquistato di recente. Questa è quella più comunemente usata. L'operatore la può, attraverso un gangio, la può mettere per esempio qui vicino al taschino, insomma in qualche punto del proprio corpo. E poi selezionando l'accensione, ovviamente questa riprende tutto ciò che è davanti. O anche mentre l'operatore si sposta con il corpo, ovviamente la telecamera fa la stessa cosa. È provvista di sensori LED infrarossi, quindi registra anche in notturna ed ha anche un microfono a bordo e quindi registra anche il sonoro. Sono utilizzate in momenti particolari dell'attività della Polizia Municipale? Un esempio può essere durante una manifestazione, durante per esempio le manifestazioni anche del luglio pistoiese, durante attività a supporto di ordine pubblico con la questura con i carabinieri, anche rilievi di un sinistro stradale. L'operatore può con questa effettuare delle riprese del campo, del sinistro, non solo di ciò che è avvenuto ma anche di ciò che gli operatori faranno da quel momento in poi. Le videocamere possono essere anche utilizzate, come abbiamo visto di recente con successo, per individuare i responsabili degli abbandoni indiscriminati dei rifiuti. Tutte le registrazioni vengono memorizzate su schede e successivamente scaricate su PC e conservate.